Un attrattore turistico che oltre a tutto avrebbe vantaggio di collegare Trieste al Carso in maniera diretta. Tante volte abbiamo detto che i due ambiti devono lavorare assieme. Guerrino Lanci non ha dubbi, la cabinovia sarebbe un vero e proprio volano per il turismo della nostra zona, facendo dialogare finalmente la città e il Carso, ruolo che tradizionalmente ha sempre avuto il tram di Opicina, ma il presidente di Federalberghi prefigura proprio un dialogo tra le due infrastrutture che sarebbero complementari. Il tram di Opicina è sicuramente una risorsa da ripristinare e che li collega, ma non sufficiente. La cabinovia permetterebbe infatti di portare molti più mezzi, le bici, persone con disabilità parziale che hanno difficoltà con una trenovia di Opicina, chiaramente. Ma non solo, il ragionamento è anche un attrattore proprio in chiave di modernità e di interesse dell'impianto. Il discorso sulla sostenibilità economica potrebbe essere in parte risolto, secondo Lanci, come già si fa in tante altre città che hanno una funicolare come attrazione turistica. I turisti, mentre mi trovo corretto che ci sia un prezzo base basso per i residenti, che lo usano con mezzo di trasporto, lo vedono come un servizio turistico, quindi pagare 6-7 euro a corsa, chiaramente, con biglietti famiglie o quant'altro, non sarebbe strano, come d'altra parte bisognerebbe fare anche per la tram di Opicina. Particolarmente interessante, secondo l'albergatore, attento ai trend del turismo, l'incentivo di una cabinovia alla fruizione del carso in bicicletta. Permetterebbe di evitare di dover portare con mezzi diversi le biciclette dal centro cittadino fin sul carso. E quindi, da un punto di vista della mobilità, sarebbe una connessione. La cosa più bella, sognando, sarebbe salire con la trenovia di Opicina, quindi facendo un viaggio nel passato, per scendere con la modernità di una cabinovia. Perché uno dei problemi che abbiamo è che molti turisti non se la sentono esattamente di fare una scala santa per scendere e ritornare in città in bicicletta. È entusiasmante, ma magari non per tutta l'età.